Siamo qui stamattina perché abbiamo utilizzato un progetto quest'anno per la nuova politica Plastic Free che si chiama Salviamo la Terra, abbiamo con noi anche la rappresentanza di Rega Ambiente Noi vediamo sempre meno spazi puliti intorno a noi, è vera questa cosa, ve ne accorgete? Da anni siamo presenti insieme alla comunità educante del nostro territorio per cercare sempre di intervenire con nuovi metodi educativi Bisogna far capire che la corretta gestione del rifiuto può e deve passare soltanto attraverso politiche aziendali, economiche Che sono volte al miglioramento dell'ambiente e qui coinvolgono tutte le comunità Dalla comunità scientifica, alle comunità imprenditoriali, alla politica, alle associazioni Penso guida il sindaco di questo piccolo paese però che grazie a lui sta cercando di crescere Perché appoggia in primis tutti i progetti che vengono fatti no dalle scuole ma dai bambini Quindi presentati richiesti proprio da loro Noi qualche tempo fa pure abbiamo tenuto, abbiamo aderito, lo facciamo ogni anno a Puliamo il mondo Quindi abbiamo tenuto questa manifestazione coinvolgendo i ragazzi della loro età anche più grandi Proprio per dare il segnale visibile della necessità di essere sensibili su taluni temi Quindi fa piacere che stamattina anche l'Istituto Mille Colori faccia questa iniziativa Proprio perché, come dicevate prima di me, è importante partire da loro per inculcare degli insegnamenti E provare a far capire che determinati comportamenti devono essere corretti A volte per comprendere grandi azioni non servono iniziative clamorose Occorre competenze e tanta voglia di appoggiare iniziative che sensibilizzano i più giovani Grazie al primo cittadino in suo guida, all'amministrazione comunale del Comune di Cese Grazie a voi, soprattutto grazie a voi Progetto Salviamo la Terra, l'Istituto Mille Colori ringrazia l'Associazione Lega Ambiente di Succivo Per aver aderito a questo progetto di grande importanza dal punto di vista culturale e ambientale Progetto Salviamo la Terra, l'Istituto Mille Colori ringrazia la Dizza Progest Per la presenza e sussidio in questo evento culturale e ambientale Cesa 21 novembre 2019 Grazie ancora Grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti